GIOVANNI MUCCIACCIA 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 Il mio sistema operativo è XP Perché l'eopard costa assai Sei tutto bagnato Ok aspetta Sento Io adesso sto andando a fare un doppiaggio in Altamurano Vuoi vaniglia? Non conosco il dialetto Altamurano Ah si? Vuoi impararlo? Ma certo, posso apprendere tutti i dialetti del mondo perché ho avuto come programmatori Fabio e Mingo So capito Rispondimi, c'è che se vanno a basci alla marina? Ammascia alla marina? Se vanno pesce L'ho detto in modo esatto Capito Scusa Scusa Il mio database è prodotto a IAPG Non rompermi i coglioni Negativo La tecnologia di quelle vittente risulta antiquata Sto non darlo E vuoi occhie?